Il dolore lombare è una forma che colpisce buona parte della popolazione attiva e lavorativa. Nel 70% della popolazione attiva e che lavora, in un anno emerge la percentuale di almeno un o due episodi acuti di lombalgia. Quindi un grosso fenomeno sociale, un grosso fenomeno economico. L'origine di questa patologia è assolutamente varia, quindi va indagata e va studiata adeguatamente. Uno dei principali elementi che induce il dolore è la patologia del disco intervertebrale, che essendo sollecitato dalla nostra attività quotidiana e dalla stazione eretta dagli sforzi o da attività anche sportive importanti, provoca una progressiva degenerazione del disco e questa produce, con vari meccanismi, fenomeni dolorosi. Come possiamo fare per correggere? Una volta stabilita una diagnosi precisa, questo è il punto fondamentale, possiamo portare i farmaci più potenti che abbiamo a disposizione, antinfiammatori, antidolorifici, direttamente vicino alla fonte che genera il dolore. Quindi nel disco, negli spazi attorno al disco, negli spazi epidurali, negli spazi perinervosi che sono vicini al disco che vengono da questi sollecitati. Queste tecniche sono di natura anestesiologica, di origine, perché prevedono l'utilizzo di aghi e di strumentazioni e di farmaci che sono tipici dell'attività anestesiologica. In base a questo noi possiamo produrre quello che è il risultato finale, ovvero lo spegnimento di una forma infiammatoria locale e quindi la possibilità di una ripresa funzionale e fisioterapica che può riportare in condizioni ottimali e quindi di un'attività lavorativa normale il paziente che ha sofferto di un fenomeno lombagico.